Perdere l'amore, grazie dei fior, quando si fa sera, pensa, prima di sparare pensa, quando tre capelli e un po' d'argento li colora, dieci ultime volte, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, forse l'ho sbagliato però non lo so. Sanremo è una città costiera della Liguria, quasi al confine con la Francia. Ogni inverno, generalmente nel mese di febbraio, vi si tiene il Festival della Canzone Italiana, uno degli eventi mediatici più seguiti in tutta Italia. In prima serata, in diretta nazionale ed internazionale. Ma gli italiani guardano davvero Sanremo? Oggi chiederemo ai passanti se guarderanno la 72esima edizione che si terrà dal 1 al 5 febbraio 2022. Guarderete Sanremo? No, quest'anno no. Non lo guarderemo, no. No, non lo guarderò. Credo di sì, perché diciamo che è piacevole vederlo. Ma quest'anno penso proprio di sì. Guarderete Sanremo quest'anno? Sì. Sì, sì, lo guarderemo. Come mai? Vabbè, perché comunque ci piace la musica italiana, no? Quindi è bello anche per questo. Poi si conoscono tanti nuovi cantanti ed è bello conoscere la musica italiana in tutte le sue forme. Guarderete Sanremo quest'anno? Daremo un'occhiata, sì. Sì, speriamo di sì. Seguiremo qualcosa. Come abbiamo le satellitare, vediamo anche la RAI e probabilmente vedremo un po' di Sanremo, effettivamente. Sì. Il motivo è perché sarà ora discussione generale di quella settimana. E tutti parleranno di Sanremo quella settimana? Sì. Assolutamente sì, perché per me è una tradizione. E quindi lo sanno tutti, amici, parenti, che io nella settimana di Sanremo, in qualsiasi periodo capiti, io sono sempre off-limits. Quindi sarò a casa e guarderò tutte le puntate, anche perché lavorando in radio naturalmente mi devo sempre tenere aggiornato, insomma. Guarderai Sanremo quest'anno? Assolutamente sì, perché lo faccio tutti gli anni. È una tradizione di famiglia, quindi sin da piccolina lo guardo. Non che voglia dire che questi ultimi sono incapaci e incompetenti, però, insomma, non lo so. Io penso che molto spesso la bravura di un presentatore sia dettata anche dal fatto che è lui a decidere chi dovrà cantare e chi non dovrà cantare. Quindi, secondo me, insomma, siamo andati un po' indietro col Sanremo. Ecco perché non c'è più quella gran voglia di voler seguire una nostra, come dire, una rappresentazione canora che a livello nazionale è importantissima. Guarderai Sanremo quest'anno? Sì, sicuramente, certamente. È una cosa che aspettiamo sempre, ogni anno, e lo guardiamo insieme alle ragazze. Io, mio marito e le ragazze. Lo sponsor di questa puntata è italki. Italki è una piattaforma dove gli studenti possono trovare degli insegnanti di lingua. Infatti, è bellissimo imparare dai video con i sottotitoli o dai nostri contenuti extra. Ma per poter parlare una lingua è necessario fare pratica di parlato. E su italki potete trovare proprio questo. Iscrivetevi attraverso il sito go.italki.com.easyitalian ed otterrete 10 crediti in omaggio dopo il primo acquisto. Una volta acquistati i crediti, potrete selezionare tutti gli insegnanti italiani, sceglierne uno e prenotare subito una lezione per fare pratica di conversazione. Cosa aspettate? Visitate il link che troverete anche in descrizione. Le canzoni italiane più famose al mondo sono state lanciate da questo festival. Ad esempio, nel dipinto di blu è l'italiano. Ma più in genere si può dire che tutti i cantanti italiani famosi nel mondo hanno mosso i primi passi sul palco del festival di Sanremo. Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Bocelli, Il Volo e tanti altri. Conoscete qualcuno dei partecipanti di questa edizione? Ne avete uno preferito? Io sì, San Giovanni, che ha vinto la scorsa edizione di Amici. Mi piace molto. Quindi secondo te vincerà San Giovanni? Eh, lo spero. Elisa anche, se non sbaglio. A me piace lei. E tra i partecipanti chi pensi possa vincere? Vabbè, spero Mahmood. Che ha già vinto qualche anno fa. Come mai ti piace Mahmood? Diciamo che rappresenta un po' l'etica giovanile all'interno del pop. Hai un favorito? Chi pensi possa vincere quest'anno? Secondo me Mahmood è blanco. Assolutamente sì. Mahmood ha già vinto qualche anno fa, quindi magari si ripete. Eh, però l'accoppiata secondo me è forte, quindi secondo me Mahmood è blanco. Una bella accoppiata. Chi pensi possa vincere quest'anno? Allora, spero Achille Lauro. Penso Mahmood o Elisa. Tra i cantanti che parteciperanno, ha qualche preferito? Sicuramente c'è il mio preferito. Sarà sempre nel mio cuore. E chi è? Anna Oxa. Ma non partecipa quest'anno? Eh, allora non vince nessuno. Chi pensi possa vincere quest'anno? Eh beh, ci sono tanti cantanti che potrebbero vincere. Mahmood, per esempio. Oppure chissà se c'è un ritorno di Massimo Ranieri, per esempio, come nei tre primi posti. Non lo so, io non sono uno che giudica e dice che vincerà. Non lo so. Vinca il migliore a questo punto. Il vincitore del Festival di Sanremo partecipa all'anno successivo all'Eurovision, ovvero il Festival Europeo della Musica Leggera. L'anno scorso i vincitori di Sanremo sono stati Imaneskin, una giovane band un po' trasgressiva che ha vinto con un pezzo rock molto forte. Ed il pezzo ha avuto talmente tanto successo che ha vinto anche l'Eurovision l'anno successivo. Cosa ne pensi dei Imaneskin, i vincitori dell'anno scorso? Eh, che è stato un bel trampolino di lancio, per fare anche un tour mondiale. Eh, diciamo che scrivono testi molto forti. Come genere non lo preferisco, però diciamo quello che scrivono può essere in alcuni casi interessante. A me piacciono, però a volte la musica è un po' troppo forte, almeno a gusto mio. I miei figli li ascoltano, ma quel tema della droga, quello così, non mi è piaciuto. Quello che sembrava che si fasse cocaina, così no. In realtà hanno smentito, le inquadrature hanno dimostrato che avevano raccolto una bottiglina d'acqua all'Eurovision. E bisogna curare un po'... L'immagine, l'immagine è importante, soprattutto oggi i giorni per i giovani. Beh, forti, grandi, dobbiamo anche rendere grazie a loro se l'Italia è sempre più conosciuta, no? Perché comunque si hanno vinto Sanremo, l'Eurosong Festival, quindi insomma un bel gruppo, ben costruito anche, perché sia dal punto di vista musicale che anche dell'immagine. Quindi una bella novità. Allora, io sono da sempre una fan, infatti speravo vincessero in realtà già X Factor. Non mi aspettavo vincessero Sanremo perché comunque sono qualcosa di diverso e non pensavo che l'Italia fosse pronta. Quindi sono assolutamente contenta e andrò a un loro concerto, tra l'altro, in estate. Gli audiofili, quelli che praticamente ascoltano musica reale, dicono che questo è un gruppetto dove, insomma, sono un po' spinti da una casa discografica che, insomma, le sta facendo salire vertiginosamente. Però io dico che comunque questi ragazzi hanno un qualcosa realmente di buono e fanno un bel genere musicale, e quindi, insomma, almeno loro lasciamoli in pace, facciamoli lavorare che, insomma, potrebbe essere il futuro nostro musicale. Bravissimi, cioè veramente dei ragazzi che hanno portato di nuovo il rock alla ribalta. E invece cosa ne pensa di Maneskin? E chi sono i Maneskin? Non li conosco. Come avete visto, il Festival di Sanremo è un evento imperdibile. Però io me lo perdo tutti gli anni. Infatti non ho l'abitudine di guardare Sanremo e probabilmente non lo guarderò mai. Però ricordo con affetto quando lo guardavo insieme alla mia famiglia quando ero piccolo. Come tutti gli italiani ricordo benissimo le canzoni che hanno vinto il Festival negli anni 80, mentre invece le canzoni che vincono negli ultimi anni, dopo qualche mese, non le canta più nessuno. Tra i partecipanti di quest'anno io voto Elisa, una cantante di fama internazionale. Ha già vinto Sanremo circa 20 anni fa con una canzone bellissima, Luce, e credo possa ripetersi anche quest'anno. Ti va di cantarci una strofa di una canzone di Sanremo, la tua preferita di tutti i tempi? No, non sono per niente cantante, non sono per niente uno intonato, quindi questa cosa la lascio perdere. Ti va di cantarci una strofa di una canzone di Sanremo, che preferisci? No, 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 non sono brava, no, no, no. Meglio di no. No, meglio di no. Si squalifica, no? Sì, sì, sicuramente. Volare. No, 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 no.